Anche la Polizia di Stato di Belluno in occasione del 19 marzo fa gli auguri a tutti i papà con una toccante storia raccontata nel cortometraggio Medley di Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi presentato proprio nella nostra provincia in anteprima alla 19esima edizione di Cortina metraggio. Il corto narra l'incontro tra un giovane poliziotto e un anziano affetto da Alzheimer intrecciando i loro ricordi personali in un racconto che celebra l'immaginazione, l'empatia e la capacità di ascolto. Uno dei temi principali del cortometraggio è il legame tra padre e figlio evidenziando le esperienze di un padre in cerca del figlio perduto e di un figlio cresciuto senza la figura paterna. La vicinanza ai più fragili e vulnerabili rappresenta un pilastro fondamentale nell'operato della Polizia di Stato. In un mondo dove crescono le sacche di solitudine e abbandono, la Polizia di Stato dedica invece tempo e risorse a coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Gli interventi quotidiani degli operatori di polizia verso anziani, malati e indigenti rappresentano un importante segno di solidarietà per arrivare a una società più inclusiva dove ognuno sia valorizzato e sostenuto. Grazie a tutti.